e se le fake news fossero pilotate dal sistema un caro saluto e grazie di essere su canal 104 plus ringrazio in primo luogo tutti i sostenitori e le sostenitrici del canale che mi stanno supportando con paypal o acquistando il risveglio o il secolare nuovo ordine del male ma desidero ricordarvi di accedere alle piattaforme alternative tipo brighton e prendere visione di tematiche che non possono essere affrontate sulle piattaforme obbedienti sottomesse al regime del sistema il canale youtube non è monetizzato non per mia scelta ma per il motivo che usando una combinazione di sistemi automatici e revisioni umane è emerso che contiene argomenti controversi e dannosi per gli spettatori come si legge qui ieri vi ho riproposto con la bella voce di eva su z l'introduzione delle fake news nel video 8 luglio di qualsiasi anno e oggi vi ripropongo la pubblicazione alla quale potete accedere attraverso il fornito indice alfabetico dal titolo fake news pilotate del sistema pubblicato il 2 aprile 2018 il sistema vi dice sempre quello che faranno sta a voi cogliere le sfumature di ciò che succederà gli anni successivi come è successo ve lo dicono sempre chiaramente perché devono farlo ma il sistema fa di tutto per farvi credere che viviamo sulla palla e distrarvi così dal vero motivo del perché siamo su questo meraviglioso regno piano ed immobile buona visione quando così tanti media riportano le stesse storie propagano la stessa narrazione si affidano le stesse fonti usano anche le stesse frasi pensateci ci sono centinaia di nuove storie che vengono riportate ogni giorno ed un numero infinito di riportarle quando sono tutti sulla stessa pagina può essere solo risultato di una campagna organizzata i am fox san antonio's jessica hedley and i'm ryan wolf our greatest responsibility is to serve our treasure valley communities the el paso las cruces communities eastern iowa communities mid michigan communities we are extremely proud of the quality balanced journalism that cbs 4 news produces but we are concerned about the trouble and trying to be responsible one-sided news stories plaguing our country plaguing our country the sharing of biased and false news has become all too common on social media more alarming some media outlets publish the same fake stories without checking facts first unfortunately some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda control exactly what people think and this is extremely dangerous to our democracy 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 Il vostro problema, c'è una crescente pressione anti-intellettuale in questa nazione, se molti, forse potrebbe essere l'inizio della fine della nostra formata democrazia. Grazie per la visione!